Grazie a tutti, vi dico un grazie non formale, perché in questo luogo stiamo cercando di custodire i sentimenti, dare un ascolto culturale, quando Martini vuole questo luogo dice farlo diventare un luogo culturale, spesso si parla di periferie come luoghi anonimi, sono fatti di voi, serate come queste, ci regalate il coraggio di andare avanti, grazie davvero. L'associazione porta la musica classica in luoghi che di solito non sono deputati a questi, poi ci piace di fare scoprire luoghi nuovi a Milano e luoghi interessanti e quindi riscopriamo insieme a voi un momento conviviale, un momento bello di musica insieme, sempre con artisti di grande qualità. Eccolo qua il maestro, Ettore De Giorgi, maestro giovanissimo, già come vedete con una pletora di grandi attestati di qualità e di bedremenza, a lui lascia la scena. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.